ISEI Professional, pura innovazione. Tre brevetti internazionali che premiano la continua ricerca e l'utilizzo di materiali innovativi. Drag Force Stabilize, per ridurre le oscillazioni laterali della bobina. Bail Anti-Grip, sistema infallibile di antiritorno. Gear System End Stabilize, oscillazione intelligente per massima fluidità in ogni condizione. 13 più 1 cuscinetti. Nomura ISEI. La massima tecnologia disponibile sul mercato è finalmente nelle tue mani. Scegliere Nomura significa avere un compagno di pesca affidabile e infallibile per gli anni a venire.